amici di misto polini io sono mister rocco proseguo questa giornata davvero divertente prima giornata di casting dell'edizione 2015 siamo sempre qui tutti pronti e presenti per farvi divertire così come cercheremo di farlo con l'aspirante miss numero 2 che è il mio numero preferito lo sapevi allora come ti chiami mariel mariel come ho capito dove sei che origini ai santo domingo e vivi a udine allora io ti ho fatto i complimenti per l'abito bellissimo chi è che ti ha aiutato a sceglierlo la mamma mamma e soprattutto anche per i capelli perché ha dei capelli davvero bellissimi allora senti raccontaci un po di te quanti anni hai 18 anni ho appena aspettando i risultati del diploma aia aia va bene andrà bene poi faccio nuoto faccio sci agonistico ammazza sei un atleta forte i cibi di sport fai bene ne avrai veramente grandi risultati più avanti allora si già fatto qualche campionato non so tipo come funziona ti alleni e basta fai parte di una squadra dello sci team di manzano facciamo ogni anno gare mi sono sempre qualificata la quarta terza seconda mai arrivato prima si sul podio però capito bene senti come mai invece ti sei scritta misto polini ti piace il mondo della moda ti piace metterti in discussione quest'anno ho cominciato a fare sfilate di gioielli allora mi hanno detto prova a partecipare a un concorso e allora sono qui al top dei concorsi bene bene tu ci conoscevi no ho conosciuto la pagina tramite facebook ho capito bene bene ben arrivata sono proprio contento che ogni anno la famiglia si allarga allora senti progetti per il futuro iscrivami all'università di giurisprondenza e poi si vedrà si vedrà bene intanto goditi questa esperienza è arrivata quella della telecamera adesso insomma saluta tutti quelli che vuoi ho capito in bocca al lupo è ciao ciao